In occasione della giornata italiana della statistica, volevo condividere con voi una riflessione riguardo il ruolo e l'importanza dei dati e della loro corretta condivisione. Innanzitutto credo che nel panorama socio-economico attuale sia molto molto facile entrare in contatto con fake news ed essere anche solamente influenzati da opinioni disinformative, quindi non basate sull'oggettività dei dati e dei fatti, ma esclusivamente su idee o addirittura su dati non verificati. Ecco è da qui che secondo me bisogna partire per rendere le persone più consapevoli, più informate e per renderle più attente affinché non caschino nel tranello delle fake news. Chi mi segue sui miei progetti social sa che combatto quotidianamente contro la disinformazione. Per farlo credo sia assolutamente necessario affidarsi a fonti affidabili di dati, quindi fonti ufficiali. Perciò, soprattutto in questo periodo molto delicato, affidiamoci esclusivamente a fonti statistiche ufficiali, sia per informarci, per condividere cultura e perché no, per cambiare idea.